Trasti, liti, incompatibilità nelle coppie, riesce a riunire genitori e figli. Il mago Letterius opera solo a fin di bene, è un uomo religioso e praticante. Non risponde a richieste di magia nera ed è un potente esorcista. Toglie negatività in ambienti e persone grazie a rituali unici al mondo. Letterius è un mago buono, si distingue anche dallo sguardo, dal viso, dall'immagine. Il mago Letterius ha tutte le qualità per capire che è benefico, perché vuole solo il bene, basta guardarlo negli occhi. Ogni evento nasconde una causa, ogni cuore nasconde un amore. Se ti ritrovi in questa frase, interpella il mago Letterius, telefona 335-6592-908. Il mago Letterius è specialista di alta magia, non può rispondere a consulti telefonici perché è impegnato nel suo lavoro con grande professionalità, rispettando il lavoro di chi svolge la missione di consulti per telefono. Le sue forze energiche sono concentrate ai casi più problematici. Riceve in qualsiasi parte d'Italia, anche a domicilio. Basta fissare un appuntamento riservatissimo al numero 335-6592-908. Letterius è specialista di alta magia. È parapsicologo, astrologo, è sensitivo, predice il futuro attraverso la lettura della mano. Ciò è un'arte interpretativa secolare, attraverso la quale è possibile capire il carattere, definire l'abilità e il talento, verificare le inclinazioni e valutare le potenziali capacità di un individuo. Attraverso la lettura della chiromanzia ti consiglia cosa fare per avere un matrimonio migliore e in che modo vincere i tuoi nemici. Puoi parlare direttamente con il mago Letterius e se vuoi fissare un appuntamento riservato, più vicino alla tua città, telefona al numero 335-6592-908. Il mago Letterius è in grado di ridarti ciò che ti hanno strappato. Allora non perdere tempo, cambia il tuo destino. La sua potenza potrebbe aiutarti a riconquistare un amore perduto, potrebbe attirare nuovi ammiratori. La ritrovata gioia di vivere con l'aiuto del maestro Letterius ti renderà vincente in ogni campo. Puoi contattarlo al numero telefonico 335-6592-908. Ti fisserà un appuntamento riservato più vicino alla tua città. Il mago Letterius ha ricevuto le più alte onoreficenze, anni di predizioni precise e controllabili attraverso lettere. Viene consultato anche da personalità internazionali. Letterius ti ascolta, ti consiglia, ti aiuta, esaminando accuratamente il tuo capo.